musica 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 puoi invitare io ho 85 persone tra cui scegliere che mi hanno dato il nickname su... sulla pagina allora vediamo invitane in eccesso almeno hai la scusa che dici boh sei stato troppo lento da accettare io ti ho invitato invito un po' minchia non lo so io lascio che picchino gli altri ho un tizio che va a mid un tizio che va in giungla con warwick andrò a top lane con... oh vai con warwick è facile k no io trust il mio team trust il tuo team nell'essere carriato si si mi carri al team mi tiro cos'è se non abbiamo il mio top laner aveva il bordino gold e tipo è droppato insieme durante la presenza no quindi rispondo aiuto si io sto alla fk a farmare per 40 minuti aspettando che il mio team mi carri vabbè dopo 40 minuti diventerai utile spero speriamo ma farai un coaching in live a quella jinx oppure la lasci trivò al suo destino no no al suo destino jinx mi dispiace no 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 come fa?! no mattene noooo no 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 non sono morta ah!!! no 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 e viva E' viva! Grabala, grabbala, trash! No, 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 dai, non è giusto però... Come non è giusto? Grabala, grabbala, grabbala! Oh! No, Jink, no, non morire. Oddio, il dive! È morto! È morto. No, non è morto! No, 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 vai trash! Vai, vai, uccidi, uccidi tutti! Oh mio Dio, please, Oriana, uccidi tutti! No, dai, adesso muore, me lo sento. Che cosa sta facendo? Yeah! Uph! Oh, no, no... Oh, no, no, non è giusto per farlo! Lagga schifo! Le scuse! Troppo forte, Rehungard! Nerfatelo, please, dritto! Dove ero? No, no, non è giusto, è giusto! Nooo, merda! No, ma perché? Ma vabbè Tipo io faccio il comando della Q E tipo non si muove il soldato Oppure si muove tipo Neanche vicino No, 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 non è la prima E questa è una cosa grave Yeah No Ci sono riuscito No cazzo, lo troverai su un minio Non dirgli, non dirgli all'Hangar Non se ne è accorto Oh no, se ne sono andata Ma vai via te Vai che ti vedo Quanti dagli stupidi fanno se riesci a beccare la Q, zio Infiniti tipo, fortissimo per 100 Ma smetti di prenderla con quella povera Oriana E tu te la prendi con Rengar, scusami eh Ma io posso Chi può e chi no E chi non può Io può Io può Oh guys, bot, mi stanno gankando Scappate Mid ti stanno gankando, scappa Mi qua Rengar Ma come? Ma come? E ti do uno? Non c'è una gassina che cazzo Già Ma non faccio Perché? Yeah Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Il mio team fit A me non mi ganko almeno Quindi io non posso neanche cercare di fare double kill Evviva Perché il team non si può No, li ho scelti meglio Beh, io ho preso il team Che palle, c'è l'exos davvero No Chi era col smite? Chi era col smite? Ma uccidi tutti, uccidi, uccidi, attaccalo, attaccalo, attaccalo L'importante L'importante E' che ammazzate l'apo Ahahahah La Ho giocare Ho giocare eh Rengar Ah è nato Ma perché così tante kill te? Uffa Mi sono findato Sono andato in giro Ho aiutato il mio team No al contrario E' che sei rimasto top Eh sono top lane Sei un peggi Sei un pessimo top lane Sei un pessimo top lane Bravi top lane Vabbè Guarda Guarda A Bet Within Sfidami Orianna, sfidami, sfidami! Attenzione team! Beh, comunque io faccio un sacco di damage, però... Oddio mio, vieni qua! NO COSA! OH MIO DIO! NON LO SO! Che falle! Dove devi morire già, eh? Che cazzo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che odio però la zona, è davvero odiosissimo! Eh, pensa io che devo giocarci contro ogni giorno! Visto che sono top laner! No, no, la lanterna! La lanterna! Ha scritto, lanco è top, possiamo andare! Eh vabbè, eh vabbè! L'ho fatto anch'io, non so se... Tutti qua, cosa stai facendo? Cazzate! Non puoi passare! Non lo vedevo! Non lo vedevo! Era nella fog of war! Cioè tipo io andavo all'incubo proprio! Non so come devo fare magic crisis! Mi sa anche a me, eh! Ah, pensavo che se tipo ti riducevo l'attack speed era abbastanza! Nooo! Stavo, minchia, c'ho... Trova Zen Art più l'altro, mi attaccherà una... Perché non riesco a... Perché non faccio danni? Che cazzo sta succedendo? Non c'ho capito niente, mi è arrivata l'altro ultimate e tipo... Eh, hai cominciato a volare! Sì! Qual'è il bello della ultima zia? Fa volare il mondo! No davvero, una volta che la fai tipo non capisco più niente io! Confused... Confused Jake is confused! Io non devo più né uccidere né fare Astris né morire! Guarda che bello score che ho fatto! Cosa è fatto? 15, 15, 15, 15, 15... Ah, come... Ah, no, Ashe, Ashe muori! Ma, my job is done! Hai rovinato il mio score! Ok! Nooo! G, scappa! Uccidete l'appo stupido! G, scappa! Ma che danni sono! No, cazzo, cazzo, cazzo! Ma che danni sono! Gol! Bella ultima! Vero? Vabbè comunque sono il champion troppo stupido, non avete riuscito! GG! EEEE, PRIMO GIFMATE IRE MINION! Troschi scriveva l'appo nub in chat con i word... Eeeh... Eeeh... Eeeh...